Un incontro molto positivo, l'occasione per i sindaci per raccontare e mettere in fila le questioni che nascono dall'esperienza quotidiana, quello che è accaduto in questi mesi, ovviamente con i soliti obiettivi, quello di accelerare la ricostruzione, di avere strumenti per il rilancio del territorio e poter fino all'ultimo collaborare con un governo che è sempre stato presente e fortemente si è impegnato sul sisma. Le parole di Gentiloni come al solito precise, corrispondenti a quello che è stato chiesto hanno segnato un momento che è inevitabilmente un momento di passaggio, quello che si può fare in attesa che poi ci sia di nuovo stabilità e nuovo governo, ma fino all'ultimo, fino a che il governo attuale avrà ruolo e potrà intervenire, tutto quello che si può fare in risposta al nostro territorio che dopo i fatti recenti continua a dimostrare di avere bisogno di grande attenzione e grande collaborazione fra le istituzioni.